Perché il Made in Vem come concetto nasce anche sull'onda di una partnership con un'azienda come Cisco? Credo che sia semplice da intuire. Cisco è un'azienda che fa innovazione, produce tecnologia di base, ma perché questa diventi una soluzione che possa portare valore al cliente finale, non solo deve essere integrata, ma deve essere arricchita di applicazioni, soluzioni a valore che un partner come Vem ha dimostrato più di molti altri di saper fare e soprattutto di saper continuamente seguire questa innovazione, continuamente portare del valore aggiunto e lavorare insieme per portare delle soluzioni end to end al cliente.